Per favore un'atmosfera circense. Signore e signori, a voi che vi vestite da granduomini ma vi comportate da pagliacci, a voi che state coi piedi per terra ma fate camminare gli altri sul filo, a voi che volteggiate tra gli amori come acrobati ma quando l'amore vi tende la mano ritirate la vostra, a voi che ruggite contro i deboli ma costruite gabbie per il talento e il coraggio dei forti, a voi dico signori e signore, il circo non fa per voi, il circo è fatto per chi condivide giorni e notti di fatica per generare uno spazio di sogno e la fatica e il sogno sono allora un'unica cosa che rende tutti fratelli, il giocoliere, il clown, la ballerina, l'uomo proiettile, il venditore di zucchero filato, gli acrobati che si cercano nel buio mentre il pubblico sospende il fiato seguendo con gli occhi i loro corpi sospesi. Questa che stiamo per raccontarvi è la storia di un uomo che ha avuto il coraggio di scegliere di rinascere e la sua nuova casa è sotto un tendone e la sua nuova famiglia è stata la famiglia più importante del circo italiano. Rullo di tamburi, maestro ce lo puoi fare? Perché sta per entrare Luca Alghisi! Grazie, buongiorno! Ma che bel monologo! Ciao Luca! Come ci salutiamo così? Così, accomodati! Grazie maestro! Buongiorno dottore! Come stai Luca? Benissimo! Grazie per essere con noi! Con te entriamo in questo mondo del sogno, nel mondo in cui tutto è possibile. Moira Urfei, la regina del circo, diceva Circenzi si nasce, come nel mio caso, oppure si diventa? Come me! Come te! E infatti tu lo sei diventato, lo racconti proprio nel tuo libro, Come gli equilibristi. La mia vita con Moira, sei stata accanto a lei fino alla fine dei suoi giorni, fino al 15 novembre 2015. Esatto. Ma prima di raccontarci il tuo incredibile viaggio, ti chiedo che cosa è stata per te Moira? È stato un punto di ripartenza, l'incontro con Moira. È stata una donna che mi ha cambiato, che mi ha fatto capire che delle volte si viene giudicati sbagliati dagli altri, ma dentro di noi capiamo che poi in fondo non siamo sbagliati, ma non siamo accettati. Questo è stato un po' il lavoro di Moira nei miei confronti, a livello umano. Emotivo. Partiamo dall'inizio però Luca, perché siamo finiti tra le giostre, il sogno di tutti i bambini, ma anche di tutti noi. Giorni di attesa aspettando il loro arrivo in città. Anche per me lo era, devo dire. Com'era per te avere le giostre davanti casa? Sì, perché tutto parte in effetti non dal circo ma dal Luna Park, perché davanti a casa mia avevamo questo grande terreno e io, un bambino molto introverso, mi sono poi aperto nel tempo, vedevo arrivare questi carrozzoni colorati, le musiche, lo zucchero filato, queste ruote panoramiche, queste giostre. Animavano un po', no? Era una visione davanti a casa mia e quindi per me era un po' un mondo sognante che arrivava in un prato di un paese, di una vallata bresciana e tra l'altro ho sempre legato molto con questi personaggi che poi si legano anche al mondo del circo, perché fanno sempre parte di questo mondo girovago e ho mantenuto negli anni rapporti bellissimi con loro perché c'era proprio un rapporto di amicizia sincera, dove c'erano degli ostacoli magari in paese. Non andavo volentieri all'oratorio, ma andavo in mezzo alle carovane dei giostrai volentieri. Devo molto a loro. Eri molto sensibile, avevi una sensibilità molto spiccata e lì in quel posto ti sentivi a tuo agio, ti sentivi a casa. Sì, ma la cosa bella è che poi era un appuntamento che si rinnovava ogni anno perché poi c'era la festa del paese, quindi arrivavano questi personaggi, queste persone e per me era un appuntamento, quasi come dei parenti. Infatti io mi ricordo con grande affetto questa famiglia di questo signore che si chiama Hermes degli Innocenti che aveva i figli della mia stessa età e poi siamo cresciuti e io tuttora sono amico loro, loro sono diventati genitori di ragazzi che io chiamo nipoti. E poi a un certo punto, continuiamo con questo racconto, a un certo punto un'apparizione in tv ti spinge a fare un gesto importante. Che ti ha cambiato la vita? Sì, allora voglio premettere una cosa però, arrivavano anche dei circhi piccoli in paese, quindi io dal balcone di casa mia non chiudevo le persiane e dicevo a mia madre lascia aperto perché io voglio vedere il tendone, le bandierine di notte con le lucine. E erano questi circhi piccoli di paese, ricordo con affetto questo circo sterza, però io non potevo andare a lavorare in questi circhi a conduzione familiare perché erano piccoli, però loro stessi mi dicono tu potresti da non addetto ai lavori diventare un circense se vai a lavorare in un grande complesso. C'era il circo Togni, il circo americano, il circo Orfei, tanti circhi Orfei, Nando, Liana e poi c'era il circo di Moira. Io vedo Moira in televisione un giorno dopo che facevo i compiti e un programma, non mi ricordo, ma ti ripeto, era l'84, avevo 16 anni, vedo Moira in televisione e le scrivo una lettera, dico mamma io voglio scrivere una lettera a Moira Orfei perché un domani col mio diplomino di ragioniere voglio andare a lavorare al circo. mia mamma mi dice Luca ma tu non sei nato lì, non ti prenderanno mai, poi l'aveva presa un po' come una battuta, come dire vuol fare l'astronauta, vabbè fare l'astronauta. Invece scrivo questa lettera alla quale lei mi risponde e nasce un rapporto a livello di lettere, no? Lei mi risponde, mi dice che era Milano con il circo ma io ero piccolo, per me era impossibile raggiungerla e poi il circo sarebbe partito per la Libia. Ma abbiamo mantenuto una bella corrispondenza finché poi un giorno l'incontro. Che bello, quell'incontro con la regina del circo, lei era un'artista completa, la regina indiscussa, e recitava il cinema, faceva la tv, aveva creato un suo look personalissimo che l'aveva proprio resa un personaggio iconico. Ma era anche una donna solida, affettuosa, legatissima alla sua famiglia. Infatti, diciamo, la cosa che caratterizzava Moira è che tutti erano abituati a vedere questo faccione con questa pettinatura sui manifesti che tappezzavano le città. Poi una donna che lavorava in pista, una donna coraggiosa, prima abbiamo visto la clip degli elefanti e tutto, ma una donna di una semplicità e di un'affettuosità enorme, di una simpatia enorme. Una comunicativa anche. Ma proprio affettuosa, nei miei confronti eccessiva anche proprio nell'ambito dell'affetto, della protezione. Lei mi vedeva un po', diciamo, confuso, ed è una donna che ha lavorato molto sulle mie sicurezze e insicurezze. Che poi sono le parti belle, meno belle, messe insieme e rendono unica una persona. Sì, per me, sai, era diva a livello popolare, l'ha considerata la regina del circo. Io l'ho più vissuta come una mamma, ecco. Tu però avevi le idee chiare, non eri confuso da piccolo, tu sapevi benissimo quello che volevi. Sì, ma non c'erano le idee chiare in casa, quindi diciamo... Quello era un po' più complicato, che te lo sei dovuto conquistare. Nel circo tu hai trovato quello che ti aspettavi, cioè il circo era quello che tu pensavi fosse. Sì, è come stata una chiamata, nel senso era tutto, secondo me, destinato ad andare così. Perché, allora, io premetto una cosa, ho fatto un'infanzia bellissima. Mi ricordo questo aneddoto di mio padre, io amando il circo collezionavo le locandine, che adesso hanno 50 anni perdite. Mio padre delle volte incontrava gli attacchini, tra virgolette, e gli dava la mancia e poi mi portava a casa il manifesto del circo che arrivava in città. Quindi non ho avuto ostacoli. Dopo, crescendo, la mia personalità si è fatta più evidente e lì sono iniziati un po' di problemi. Un po' di contrasti. Perché uno dice, perché va via di casa? Poi, sai, non sono andato a vivere in un'altra città, a fare un lavoro e tutto. Ho cambiato completamente il mio stile di vita. Senti, ma abbiamo parlato di Moira, artista proprio a tutto tondo. Vediamola in un celebre film del 74 di Dino Risi, Profumo di Donna, accanto al grandissimo Vittorio Gasman. Che coppia! Con le musiche di Trovaioli. Io mi chiamo Metta. Io Antonio. Vogliamo procedere? Patrizia! Vieni a far compagnia a questo bel signorino. Scusa se tocco, eh? Ah, mi sembra che andiamo bene. Scusa se tocco. Hai un profumo un po' forte. Che roba è? Ma perché non ti piace? È paciolito, sfumo degli impi. Perché? Che impi? Chiudi bene la finestra e non accendere la luce. Sì, ma anche se c'è un po' di luce, scusa. Tanto per te non è lo stesso. Non mi piace in certi momenti essere guardato in faccia. Eh, che coppia! Ma ricordiamo altri partner nei suoi, appunto, negli incontri di cinema, nelle pellicole, Mastroianni, Totò, che l'ha voluta proprio in diverse pellicole, l'aveva amata profondamente. Che lei chiamava giustamente Principe. Eh, giustamente. Perché era un principe. Vediamo Monaco di Monza. Vediamo. Come combattere bene, ma adesso la mia. No, prendi questo. Questo. Bello, ma parlo un pinguino. Ti spistemo io a te. Ciao. Sai, per me, tu li vieni. Ciao. Mi piace più di prima, lo sai che mi piace più di prima. Io invece ti odio più di prima, Dona Eccinio, e lo sai? Che meraviglia. Ma a proposito dei grandi incontri, non possiamo non parlare della regina indiscussa della TV, che è Raffaella Carrà, e che ha ospitato tante volte il circo, e soprattutto Moira. Vediamole insieme a Canzonissima 74, Raffaella Carrà e Moira Orfei. Dedicato, dedicato a te, a te. C'è lei, la regina, la superstar del circo, e ci vai Moira Orfei. Buonasera. Benvenuta. Grazie, Raffaella. Senti, ma questo è un cigno... Brava. Sì, senti, ma è pericoloso? No, guarda. Fammi provare, eh. Dopo ti domando come stai, eh. Aspetta. Adesso che devo... Mi piaccia. Aspetta, eh. Signori. Ah, ma come mi diverto. Dai cavallini sei passata alle tigri, ai leopardi, ai leoni, agli elefanti. No, non mi dimentico, perché sai, io sono terrorizzata dagli animali, ho una paura pazzesca. Beh, siccome io ho fatto tutto questo, allora ho detto, cosa potevo fare? All'infuori delle colombe da maestrare, e ho ammaestrato anche quelle. Eh, che belle tutte e due insieme. Moira era veramente di una bellezza, di un'empatia, eh. Sì, al di fuori anche proprio dell'ambito circense è riuscita a raggiungere grandi risultati nel cinema, nella tv. Eh, sì. Una donna molto comunicativa. Molto. E comunque sempre molto semplice e umile. Semplice, quindi amata da tutti. Molto, molto. Era amata da tutti. E anche da Gigi era amata, perché l'ha intervistata. Incontrata davanti alle telecamere, sottovoce, travolgente. Davanti alle telecamere, sentite com'è proprio lì. Travolgente, travolgente. Travolgente, proprio di carismatica. Totale, totale. Lei ha messo insieme tutti i registri, autori, insomma, intellettuali. Proprio veramente era amata da tutti. Ma ho una sorpresa per te, Gigi. Cioè? Sì, sì. Vediamo un attimo. Vediamo un secondo sottovoce. Ah, sottovoce. Di qualche anno fa, ovviamente. Oira Ofei, donna di circo. Così si dice? Sì. Lei è nata con il circo, nel circo, in un certo senso. Certo, sono nata nel circo, in un carrozzone. Un tipo di nascita e un tipo di crescita diversa, ovviamente, da altri tipi di nascita. Sì, tutto diverso. In che cosa? Come? È diverso. La diversità. La diversità è la vita, perché si viaggia tutti i giorni, si sta due giorni in un paese, due giorni in un altro. Io non potrei vivere in una casa. Qual è la differenza tra una donna come lei, che è nata e cresciuta nel e col circo, e una donna invece normale? Beh, nel circo è tutta un'altra cosa. Ci si alza, si fa ginnastica artistica, si fa molto sport, moltissimo, tantissimo, fin troppo, per diventare degli artisti. E poi bisogna anche studiare, abbiamo i maestri in casa. Una volta no, una volta si andava fuori ed era ancora più difficile. Ed è una vita talmente diversa dalla gente ferma, cioè la gente ferma che vive nelle case come lei. Così noi la chiamiamo la gente ferma. Mi piace guardarti. Come la guardi? C'è uno sguardo di dolcezza, di amore, di ricordo. Tanti anni della mia vita, non per nulla ho voluto mettere su carta, quasi come per ringraziare. Un libro, sai, non muore mai, diciamo. La mia vita con Moira. Beh, certo, direi che no. È un grazie a Moira, ecco. È molto bello. È la sua famiglia. Io l'ho letto ed è proprio, non smetti di leggerlo. Una pagina dopo l'altra ti porta alla fine in un racconto bellissimo. Ti ha migliorato, Moira, tanto. Farai anche un film, vero? Ci sono delle... Incrociamo, incrociamo. Incrociamo. Ci sono delle trattative inaspettate, ma probabilmente non è quello che ho raccontato io, ma è quello che ha dato lei, perché comunque è una donna che è stata amata da tanti. E volevo fare una premessa, se mi permetti. Certo. Parte anche un bel tour dove presenterò il libro. Parto da Viareggio, che mi ha accolto, contattato, nella persona dell'assessore Sandra May, alla cultura. E quindi sono felice anche di poter portare in giro questo messaggio. Questo messaggio. Qual è il messaggio che vuoi portare? Ma io credo, nella mia vita, di aver fatto un'operazione forte a livello psicologico, a livello emotivo. Ho spostato l'asse degli affetti, perché a un certo punto, quando ho visto che si erano alzati dei muri in casa, non mi sono buttato giù di morale. E questo è un messaggio che io vorrei mandare a tutti. Come gli equilibristi, perché? Perché tutti i giorni noi siamo in equilibrio sul filo della vita. Esatto. È una metafora, però io ho imparato a camminare sul filo, come al circo. Che bel messaggio, sono sicura che è arrivato bello diretto. Lo auguro a tutti, lo auguro a tutti. La tua dedica? La mia dedica è una persona speciale che... Il viaggio con mio padre non è stato un viaggio lungo, perché io poi sono partito molto presto per il viaggio vero e proprio circense. Della tua vita. Sì, sì. Però a mio padre dedico questa dedica. A mio padre, in uno degli infiniti mondi paralleli, sicuramente un giorno ci ritroveremo. Che bello. Come si chiamava tuo papà? Mario. Che bello. E io so che tu ami molto la canzone di Andrea Bocelli, che con te partirò. Sì, ma perché? Ti spiego. Era la canzone con la quale finiva lo spettacolo di Moira. Moira era molto attenta a tutto, alle musiche, con Walter, con Stefano e Lara. E con te partirò è come dire, il sogno dello spettacolo del circo invitava il pubblico a dire con te partirò, nel senso partite con il nostro sogno. Con il nostro viaggio, con il nostro sogno. E poi è un po', sai, io veramente ho trovato nel viaggio, adesso abito in una casa, come prima Moira diceva, così, però mi manca tanto la casa sulle ruote. Pur non essendo nato, infatti io, quando c'è l'occasione, quando sono degli amici del Luna Park, amici del circo. Ci dai, ci torni, perché è la tua vera casa. La casa sulle ruote rimarrà la mia vera grande casa. Luca, ti dedichiamo al maestro Campagnoli, con te partirò. Quando sono sullo sogno all'orizzonte, mancano le parole. Se lo so che non c'è luce in una stanza, quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me, sulle finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada con te. Partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso si libero con te. Partirò su un avi per mari, che io lo so, no, no, non esistono più. Io con te. Partirò su un avi per mari, che io lo so, no, no, non esistono più. Grazie. Grazie. Brava, 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 brava. Grazie, Luca. Brava, brava, brava. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te per avermi invitato. Grazie a te per avermi invitato. Grazie al dottor Marzullo. Mi ha emozionato, quindi adesso sono... Grazie. Grazie, Luca. Grazie a te. Ti voglio bene. Grazie.